Buonasera a tutti, io sono Mauro Manente, sono founder e CTO di Latitude 40. Sono qui per presentarvi Ertalytics, la nostra piattaforma cloud dove trasformiamo le immagini satellitari in informazioni. Infrastrutture critiche come quelle dedicate al trasporto dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas o quelle ferroviarie, dislocate su tutto il territorio nazionale e spesso in posizioni particolarmente impervie, devono essere monitorate costantemente per preservarli dalla vegetazione oppure per verificarne lo stato dopo un evento meteorologico intenso o più semplicemente per verificarne l'integrità nel tempo. Attualmente per il monitoraggio di tali infrastrutture vengono utilizzati mezzi come aerei, elicotteri, in alcuni casi anche i droni. Tali mezzi però richiedono molto tempo nella pianificazione dei voli, sono particolarmente costose e in ogni caso le immagini acquisite devono essere inviate a società di consulenza che oltre ad avere le competenze per processarle devono essere anche esperti della specifica infrastruttura che stanno monitorando. Abbiamo quindi realizzato una infrastruttura cloud che sfrutta la continua acquisizione delle immagini satellitari per trasferirle come input ai nostri algoritmi di intelligenza artificiale ed indicare quando e dove intervenire. Quando e dove intervenire per esempio per tagliare i rami degli alberi che minacciano le linee elettriche oppure quando e dove intervenire nel monitoraggio di eventuali perdite di una conduttura idrica. Lo abbiamo fatto garantendoci la possibilità di acquisire le immagini dai principali provider, non solo in archivio per studiare il passato ma anche con la possibilità di pianificare nuove acquisizioni sulle specifiche aree di interesse. Abbiamo realizzato i nostri algoritmi come se fossero dei mattoncini da poter riusare e ricombinare per estendere le potenzialità di monitoraggio della nostra piattaforma e abbiamo realizzato la nostra user interface come una dashboard particolarmente semplice da utilizzare. Nel nostro percorso prima di arrivare al settore del monitoraggio delle infrastrutture abbiamo avuto la possibilità di realizzare un proof of concept con il comune di Napoli e di effettuare attività di ricerca con una start up dell'ambito IoT. Queste esperienze ci hanno consentito di raffinare i nostri algoritmi e di migliorare la nostra user interface. Siamo quindi arrivati al mondo del monitoraggio delle infrastrutture e quest'anno abbiamo conseguito il primo contratto con uno dei grandi player del settore della gestione delle infrastrutture elettriche e abbiamo monitorato per loro le linee elettriche ad alta tensione in un'area di 100 km2 arrivando a definire un modello di monitoraggio completamente automatico. Le linee elettriche quindi possono essere monitorate attraverso la nostra piattaforma in maniera assolutamente automatica senza l'intervento umano. La nostra piattaforma si inserisce nel mercato degli Earth Analytics che ha un valore globale pari a 20 miliardi di dollari con un tasso di crescita anno del 15%. A livello europeo focalizzando l'attenzione sui tre cluster sui quali abbiamo avuto l'opportunità di lavorare il valore va a 1.8 miliardi di dollari con un potenziale per noi di 130 milioni di dollari. Sotto il punto di vista dello scenario competitivo ci differenziamo rispetto agli altri attori per la semplicità di accesso alle informazioni estratte dalle immagini satellitari e per il fatto che cancelliamo assolutamente la necessità di sviluppare software ad hoc oppure di chiedere consulenze specialistiche. Il nostro modello di revenue è semplice, è software as a service con una subscription e un prezzo che è funzione della dimensione delle aree da monitorare e della frequenza con la quale è necessario inviare i risultati. Oltre a me i founder sono Gaetano Volpe, il nostro CEO che ha 20 anni di esperienza nel settore dello spazio Vincenzo Vecchio, project and marketing manager e Donato Amitrano che è PhD dell'Università Federico II di Napoli. Il vero valore sono questi ragazzi eccezionali che ci hanno consentito di arrivare fino a questo punto. La nostra azienda è nata nel 2017, le esperienze fatte nel 2018 ci hanno portato ad arrivare nel 2019 al primo successo. Nel primo trimestre del 2020 contiamo di rilasciare la versione pubblica del nostro sistema di monitoraggio delle linee elettriche però ci serve una spinta per arrivare alla fine del 2020 con l'acquisizione di almeno 5 clienti nel mercato europeo del monitoraggio delle infrastrutture e per rilasciare nel primo quarter del 2021 i primi servizi del settore Agritec. Per fare questo abbiamo stimato un fabbisogno di 500.000 euro da destinare principalmente alla crescita commerciale e allo sviluppo del prodotto. Grazie mille. Grazie. Grazie.